Buongiorno a tutti, mi chiamo Luigi Emmolo, sono laureato in biologia molecolare e sono qui a realizzare questo video perché vorrei farvi conoscere un po' più da vicino il coronavirus, la sua struttura, la sua fisiologia e farvi capire come mai è così importante rimanere a casa in questi giorni. Il coronavirus, così come tutti gli altri virus, è una particella infinitamente piccola. Dovete sapere che ha un calibro, cioè un diametro, che è 600 volte inferiore rispetto al diametro di un vostro capello, per cui risulta praticamente invisibile anche al microscopio ottico. Ha una membrana esterna di forma sferica che serve a contenere e a proteggere il materiale genetico del virus, che è una molecola di RNA a singolo filamento, una sorta di libretto di istruzione dove ci sono scritte tutte le informazioni di cui necessita il virus per potersi replicare. Sulla membrana poi si trovano tutta una serie di recettori che sono quelli che determinano la caratteristica forma corona del virus, dalla quale dipende poi anche il suo nome. Ora, questi recettori contengono delle proteine. Una proteina particolarmente importante è la proteina Spike, che è quella proteina grazie alla quale il virus riesce ad aderire alle nostre cellule delle viriespiratorie. Quindi come potete vedere è una struttura molto semplice, tant'è vero che gli scienziati non lo considerano neanche un microorganismo, perché non è in grado di svolgere tutte quelle che sono le funzioni vitali in modo autonomo. Se prendete il coronavirus e lo mettete su una superficie sterile, qualsiasi, insomma, in pochissime ore, al massimo pochissimi giorni, si degrada. E allora di cosa ha bisogno questo virus per replicarsi? Ha bisogno delle nostre cellule, perché all'interno delle nostre cellule trova tutti quegli enzimi, cioè tutti quei macchinari di cui ha bisogno per fare tante copie del suo RNA, delle sue proteine, per poter costruire quindi nuove particelle virali. Quelle particelle virali che poi andranno ad infettare altre cellule della stessa persona o di altre persone, compromettendone la salute fino a determinarne la morte nella peggiore delle ipotesi. Questo è il motivo per cui dobbiamo rimanere a casa, cioè dobbiamo evitare che il virus entri in contatto con le nostre cellule per poterne sfruttare poi gli enzimi. Dobbiamo evitare che il virus accresca il suo esercito. Per questo vi chiedo di rimanere a casa, di isolarvi, di ridurre le vostre interazioni sociali. Purtroppo in questo momento non abbiamo altre strategie migliori per tutelarci, per difenderci da questo nemico invisibile. Per cui faccio affidamento su di voi, sulla vostra intelligenza e soprattutto sul vostro buonsenso. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per il contributo che sicuramente darete, vi faccio il mio in bocca al lupo e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie.